La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul crollo di una parte del viadotto Ortiano 2 lungo la strada statale 177 dir nel territorio del comune di Longobucco in provincia di Cosenza. A provocare il cedimento della struttura sarebbero state le piogge incessanti e la conseguente piena del fiume Treonto. Il crollo non ha provocato conseguenze per le persone grazie al fatto che l'ANAS aveva bloccato, in via precauzionale, il transito di mezzi leggeri e pesanti lungo tutta la statale. Il viadotto era stato aperto al traffico nel 2016 dalla regione Calabria e l'ANAS ne aveva acquisito la gestione nel 2019. Dopo il sopralluogo del presidente della regione Roberto Chiuto, che ha chiesto l'intervento del governo, sulla vicenda interviene Legambiente, un evento connesso alle forti piogge che dovrebbe far riflettere le amministrazioni competenti sulle vere priorità territoriali, sulle opere ed infrastrutture da realizzare in Calabria collegate alla crisi climatica in atto, sul rafforzamento necessario dei controlli in fase di costruzione e sulla successiva necessaria manutenzione. La Calabria, ricorda Legambiente, è tra le regioni in cui gli effetti della crisi climatica stanno diventando sempre più accentuati. Dal 2010 all'aprile scorso si sono verificati 90 eventi estremi, di cui 35 allagamenti da pioggia intense, 21 danni da raffiche di vento e trombe d'aria, 14 danni alle infrastrutture da pioggia intense e 8 frane. Le vittime, dal 2010 ad oggi, sono state 17. Le vittime, dal 2010 ad oggi, sono state 17.